Ciao a tutti, sono Titan e dopo diversi mesi, forse non so se sono proprio mesi, ma comunque dopo molto tempo torno qui con un video e sono qui per fare la recensione di Uomo, l'ultimo disco di Mondo Marcio, uscito appunto l'8 marzo questo, come detto appunto da Marcio, doveva essere il suo ultimo disco e secondo me non ha lasciato il segno a me appunto lui è sempre piaciuto, la maggior parte dei suoi dischi per non dire tutti mi hanno colpito, mi hanno emozionato però questo qui devo dire che mi ha deluso, è un disco corto, doveva essere infatti breve e conciso ma secondo me non lo è stato, perché ostenta troppo il concetto che lui faceva le cose che vanno di moda ora, anni fa e le faceva anche meglio, ma secondo me diventa ridondante questo continuo ostentare di essere venuto prima di altri perché alla fine non è che è un suo merito essere nato prima, quindi poi passiamo a parlare un attimo delle tracce ci sono tracce molto belle come per esempio, scusate, Vida Loca secondo me è una gran hit poi con il video rende anche di più e devo dire che mi piace Dio del Rap, DDR, ha un grandissimo ritornello e suona molto bene però secondo me ci sono alcune barre cringe e ancora questo continuo ostentare di essere arrivato prima degli altri poi Angeli e Demoni con Mina che è senz'altro la mia preferita, soprattutto anche per Mina però anche Marcia ha fatto molto bene altro pezzo che mi è piaciuto abbastanza è Legenda Urbana che anche se lì continua a ostentare quello che ho detto finora è un bel pezzo è un bel pezzo poi gli altri pezzi che restano ce n'è qualcuno bello, qualcuno meno bello ma secondo me Mondo Marcio, adesso come adesso se non si evolve, se fare ancora musica non ha più niente da dare a questa scena perché questo è un disco, sì carino, supera la sufficienza però non ha portato innovazione, non ha portato niente di nuovo ha continuato a ribadire concetti vecchi magari su delle sonorità un po' più fresche, un po' più nuove quindi voglio dire, se questo disco non fosse uscito la scena, cioè non se ne sarebbe neanche accorta cioè non ha lasciato il segno in poche parole, questo voglio dire e devo dire che forse anche è il disco che mi ha colpito meno di Marcio è un vero peccato perché lo tendevo con ansia a questo progetto ecco qui, ho detto la mia su Uomo di Mondo Marcio e la recensione è finita e ci vediamo al prossimo video ciao